Musica Approntare la tematica delle migrazioni, una tematica all'ordine del giorno molto attuale, ma che abbiamo cercato di operare nella sua complessità e di evitare di affrontarla nell'ambito o dall'aspetto emergenziale con cui solitamente ormai ideologicamente e politicamente viene presentata la tematica della migrazione. Quindi l'Associazione Alunidea dell'Italia, l'ADIT, insieme all'Università Federico II e all'Università dell'Orientale e con la cooperazione dell'Ambasciata tedesca e dell'Istituto hanno organizzato questo convegno per affrontare il tema delle migrazioni da vari aspetti che sono quelli sociologici, quelli giuridici, quelli letterari, quindi la migrazione come sfida ma anche come opportunità. Alit è l'Associazione Alunidea dell'Italia, ovvero ex corsisti del governo tedesco che hanno passato un periodo in Germania e che poi sono arrivati in Italia grazie al collega il professor Andrea Donofrio che ha proposto questo argomento qua sulle migrazioni che ci sembrava un argomento molto attuale, molto importante anche e così è nata poi anche la collaborazione con le due università sia l'Orientale sia la Federico II e noi siamo ovviamente molto felici. Grazie